Ok, oggi è il 16 dicembre 2007 e sono più o meno le 12 e mezza, nel senso che è mezzogiorno e mezzo e questo è un po' di neve, parte seconda, qualche anno dopo, adesso non mi ricordo quanti anni dopo e non so se si vedono gli uccellini intirizziti là, è da ieri più o meno, anzi ieri notte, sarà più o meno 12 ore che nevica e questa è la mia casa nuova, qui dove lo scorso settembre venivano ad abbuffarsi gli scoiattoli, mi hanno mangiato tutti i semini e purtroppo fa troppo freddo, siamo a 14 gradi sotto zero e veramente non me la sento di uscire e poi non so nemmeno dove metterla la roba da mangiare per gli uccellini, comunque vabbè, niente, volevo solo far vedere la nevicata di oggi e le previsioni danno neve per il resto della giornata e questa è neve, neve è proprio ghiacciata dicono che poi verrà proprio la neve ghiacciata sul serio, cioè pioverà ghiaccio più tardi in giornata quindi spero di non avere troppi problemi domani e andare a scuola perché iniziano gli esami finali e il primo esame lo devo dare alle 8 di mattina domattina vabbè, e questo è quanto, bella giornata, saluti dagli uccellini congelati e a più tardi